... Desidera? Porca! Che ore sono? È due del pomeriggio, signor Lui. Mi scusi, stavo dormendo. Io lavoro una notte. Lo sappiamo, lo sappiamo. Ma forse lei fa anche qualcos'altro, di notte. Posso? Cosa vuole da me? Complimenti, bella casa, signor Lui. Cosa posso fare per lei, ispettore? Poche ore fa hanno ammazzato Bruce Norton. Bruce? Non ci posso credere. Come? Come? Ieri sera Federico Marinoni l'ha beccato mentre fotografava di nascosto i disegni della sua nuova collezione. L'ha fatto su commissione. E a pagarlo è stato lei, signor Luini. Come aveva già provato a fare con Brigitta Olsen. Probabilmente lei lavora per Taninando, che incontra di nascosto nei parchi. Sa di cosa sto parlando, è vero? Si chiama spionaggio industriale. È un reato. Mi dica, dove era stanotte? Al mio locale. E poi sono tornato qui, in compagnia. Mi dispiace per lei, ispettore, ma io ho un alibi. Anzi, due. Mi dispiace per lei, è vero.